Il gruppo Migros da oltre 40 anni si occupa della distribuzione di generi alimentari nei canali supermercati e dall'anno scorso ci occupiamo anche della distribuzione di cash and carry che è un canale dedicato a tutti i processori di partita IVA e tutti i professionisti che necessitano tutti i giorni di un servizio continuo all'interno delle loro attività. Il cash and carry può essere utile ed è un canale dedicato per tutti i processori di partita IVA quindi tutti coloro che richiedono una continua solida gestione delle loro attività dando il servizio tutti i giorni all'interno delle loro attività. I reparti all'interno dei nostri cash and carry si parte dalla parte del reparto fresco della frutta e verdura reparto della pescheria, reparto del fresco freschissimo quali arrivano tutti i giorni dalla nostra piattaforma di Verona per dare servizio migliore a chi ha un'attività che tutti i giorni cerca la freschezza. Abbiamo anche dei reparti dedicati per chi ha bisogno di vini quindi abbiamo all'interno dei nostri cash and carry dei sommelier dove viene selezionato il vino assieme ai nostri buyer di riferimento dell'azienda per dare loro il prodotto che necessitano all'interno dei loro ristoranti e bar per chi ha uffici anche all'interno delle proprie attività abbiamo tutta la parte di oggettistica che può essere utile all'interno dei loro uffici quindi dalle penne ai block notes, alla carta, al materiale di consumo tutto ciò che può essere utilizzato all'interno delle proprie attività. Il cliente può venire all'interno dei nostri cash con la propria tessera fare la spesa e portarsela direttamente a casa sua oppure anche abbiamo attivato una piattaforma e-commerce dove il cliente può fare la spesa online e farsi decapitare la spesa direttamente nella propria attività. All'interno dei nostri cash and carry c'è tutta la parte di regalistica quindi si trovano tutta la parte delle varie attività quindi può essere il Natale, da fare il cesto natalizio per la Pasqua abbiamo tutta la parte di confezioni e anche tutta la parte vini dove possiamo trovare le varie cassettine e le varie bottiglie particolari nei cash and carry diamo il servizio continuo tutti i giorni a tutte le attività questo perché sappiamo che il nostro utente professionista ha necessità di avere la merce tutti i giorni fresca nella propria attività per garantire anche lui la propria freschezza e anche proprio la continuità del servizio all'interno dei loro locali. I vantaggi di Migros è che si impegna tutti i giorni a garantire il prezzo più basso del mercato e garantire la continuità del prezzo e anche del servizio all'interno dei cash and carry per chi ha un'attività. per chi ha un'attività. per chi ha un'attività.